E' importante guardare gli altri, non per criticare, dire ragazzi, ma tu stai sbagliando questa cosa stai facendo, ma è per vedere, per vedere gli errori che potrebbe fare qualcun altro e dire, ah cavoli potrei farli anch'io questi errori, aspetta che non li faccio, avete notato qualcosa il Riccardo adesso che ha girato? Muove un po' i pedali, muove un po' i pedali, ok perché doveva recuperare velocità, perché cos'è che non faceva bene? Non faceva bene, pesa anche troppo l'indicazione, no, su quello no, era molto rigido con le gambe, non riusciva a spingere bene, non acquisiva velocità e quindi doveva compensare con le pedalate, ok? Non dobbiamo essere, qua noi dobbiamo mantenere il controllo delle ruote che stanno attaccate a terra e con la tecnica del pompaggio dobbiamo acquisire velocità per non pedalare, ok? Quindi dobbiamo essere sì tenaci sul manubrio e sui pedali, però dobbiamo essere anche fluiriche con le articolazioni, perché sono quelli i punti che ci servono per accumulare velocità, ok? Dai, facciamo un altro giro, uno normale, uno rovescio e poi andiamo al soggetto Vai, facciamo un altro giro, uno normale, vai, voglio vedere chi spingere con le gambe, vai giù, vai giù